Allora, Giamma, vai Tu naturalmente sei paracolo Bravo, sì E quindi dici in sacca di c***o Bravo E a me di fammi pià per c***o non c'ho voglia Giusto Quindi io tutte le volte che devo comunicare con te Non so se mi stai pià per c***o o se sei serio Ok Quindi questa cosa automaticamente compromette tutti i dialoghi che posso avere con te Lui ha un modo di gestire i suoi momenti down Che coinvolgono davvero tutta la casa secondo me Ok Cioè per esempio se succede una cosa a Samuel Samuel sta lì Si fa aiutare dalle persone di cui ha bisogno Che possono essere Megan Si mette a piangere, si sfoghe nel suo modo E dopo del totto ore sta bene E nel mentre tutta la casa è riuscita a vivere la sua vita Mentre nei tuoi momenti è molto caos Quando i tuoi momenti che sono tuoi, problemi tuoi personali Mi sento a volte in difetto a magari non chiederti una cosa Non parlarti oppure a venerti troppo vicino Perché non so come mi devo comportare con te Perché non so come mi devo comportare con te